Parlando di edilizia off-site, System Costruzioni presenta oggi lo studentato Santa Marta realizzato per l'Università Ca' Foscari a Venezia. Sono tre edifici dal quale vengono ricavati 650 alloggi per studenti e annessi spazi per la didattica e spazi ricreativi quali biblioteche, sale svago, mense, delle palestre. Sono tutti spazi annessi all'attività sia degli studenti, intesa proprio come attività universitaria, che attività connessa allo studio. Le caratteristiche del sito, la scarsa accessibilità al cantiere, parliamo di Venezia e della Laguna, hanno portato ad un progetto che limitasse al massimo la cantierizzazione, quindi la parte costruita in cantiere, spostando, localizzando prevalentemente la produzione in fabbrica, in stabilimento. Questo ha permesso di efficientare la qualità ed anche ridurre i costi dell'intervento. Off-site significa sintesi, sintesi tra l'edilizia e la manifattura, una sintesi tra cantiere e cicli produttivi. La sfida è un po' quella di trasferire in stabilimento, quindi in fabbrica, la produzione di semi lavorati con un grado di finitura sempre più elevato. In questo modo si efficientano i costi, la sicurezza, la qualità del prodotto costruito.